ogni male dal tuo corpo per poi ricominciare da capo la notte è giovane voglio farti provare qualcosa di nuovo che cos'è? ha il nome di un incantesimo si scioglie in bocca come una caramella di zucchero frilato l'hai già provata? io no però mi fido di te insomma in base alle tue considerazioni io stabilirò un prezzo di vendita grazie un bel attestato di fiducia ma siamo amici no? sì sì siamo amici che cosa devo fare? vedemi devi succhiare un franco buono che schifo perché la colla? questo non è un franco buono delle poste è qualcosa di diverso questo è il trip senti il nome sembra una formulina magica trip sì trip 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 portaci nel foregno sì trip facci vedere chi sei è un franco buono delle poste qualsiasi cosa succede qualsiasi cosa io e te non ci conosciamo che cosa deve succedere? hai capito? hai capito? sì sì io e te non ci conosciamo va bene comunque non succede niente ok avanti trip facci vedere chi sei no 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 devi succhiarlo tutto succhia hai fatto? sputa il cartoncino sputa il cartoncino bravo ora vediamo dai che l'effetto di sale sarà una figata tanto che la canna dai tranquillo sì dai amico mio sì è succhiato dai bravo è succhiato bravissimo dai perché tu non la prendi dai tranquillo ma la prendo pure io dai che fai con bravo ma perché tu non la prendi sì sì perché tu non la prendi Sì perché ho paura Ma perché non so cos'è? Ma vogliono vedere, a 50 euro al pezzo è il più forte e il meglio è! E io non ho soci, ma ve ne faccio tutto da me! Ebbene la moto è via! 200 mila euro non li metto via neanche il topare! Ragazzi! Ragazzi, vai! Guarda che a casa non mi sento bene! Vieni, vieni, dai! Noi due non ci conosciamo! Tu non sei mio amico, me lo ricordo, anzi ora lo so! Dove vai? Dove va? No! Scegli, tagli che puoi farti male! A sei anni avevo un pesciolino rosso. Proprio da questo punto l'ho lasciato andare. Quel giorno accanto a me c'era mio padre. Oggi ci sei tu! 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 Oggi! Oggi ci sei tu! Grazie.